Nelle prime ore di questa mattina i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Foggia hanno eseguito due ordini di arresto nei confronti di due persone appartenenti ad una delle famiglie malavitose di Foggia, con l'accusa di estorsione aggravata in concorso ai danni dei titolari del marchio Pro Shop. Sono finiti in manette Leonardo Francavilla, sorella di Antonello e di Emiliano Francavilla e moglie di Mario Lanza, ed Antonio Salvatore, convivente della figlia di Leonardo Francavilla. Le indagini iniziarono dopo il 12 di novembre del 2015, quando l'auto del titolare dell'esercizio commerciale, parcheggiata in strada, fu fatta oggetto di colpi di pistola che bucarrono la carrozzeria ed infranzero il parabrezza. Cinque giorni dopo, un ordigno esplosivo fu piazzato davanti alla sala cinesca del punto vendita di via Zodiaco a Foggia, peraltro non di proprietà dei Grieco, provocando ingenti danni al locale. Il collegamento tra i due episodi indusse gli inquirenti a ipotizzare un evidente tentativo di estorsione ai danni della famiglia Grieco, ipotesi confermata da un'operazione commerciale nella quale gli estorsori avevano costretto i titolari della Pro Shop a fornire merce per la pulizia della casa e l'igiene della persona, per circa 30.000 euro, a prezzi al di sotto di quelli di costo che gli inquirenti hanno definito addirittura prezzi da suicidio, senza copertura economica, senza garanzie e senza alcun contratto scritto. Le intimidazioni e le richieste estorsive contavano morto sulla parentela dei due arrestati ad Antonello Francavilla, a sua volta elemento di spicco del clan sinesi Francavilla.